Riportare la poesia nei luoghi non istituzionali per un'invasione poetica pacifica della periferia d'Italia e del mondo. Questo è l'obiettivo di Ottobre in Poesia, il primo festival poetico della Sardegna e di Sassari giunto alla dodicesima edizione che si svolgerà in quattro giornate tra Sassari, Tissi e Tempio Pausania dal 18 al 21 ottobre. La manifestazione è presentata questa mattina nei locali dell'ex infermeria dall'assessore alla cultura Manuela Palita dal direttore artistico Leonardo Unida e dedicata quest'anno al tema della metamorfosi, del cambiamento e della trasformazione. In questa edizione si invita a volgere lo sguardo in una direzione diversa. Con la produzione del progetto Ottobre in Poesia, titolata Telo d'Autore, 100 teli diventeranno pagine di poesia e si affaceranno dai balconi, dalle finestre e delle vie centrali per tutta la durata del festival. E sempre all'insegna della diversità è l'evento inaugurale del 18 ottobre presso l'assessorato alle politiche culturali dove alle 11.30 sarà aperta la mostra fotografica Tutti veniamo dal mare. A seguire alle 12 il concerto aperitivo con le incursioni poetiche di Angela Colombino. In serata alle 18 nella biblioteca comunale in Piazza Tola l'incontro con la scrittrice gallese Menna Helfin che dialogherà con Giuseppe Serpillo, mentre le letture di Sara Pusceddu e Carlo Valle si alterneranno alle musiche degli artisti del progetto Ottobre in Poesia. La prima giornata si concluderà alle 21 al vecchio mulino con un reading di poesie. Il fito programma proseguirà nei giorni seguenti con l'assegnazione di premi, laboratori, letture e performance artistiche di vario genere.